Sono 27 gli indagati della maxi-indagine del Nucleo Investigativo Carabinieri di Arezzo nell'ambito dell'operazione che ha stroncato un vasto traffico internazionale di stupefacenti tra il maggio 2011 e il luglio 2012, messo in atto da un'articolata organizzazione criminale che operava anche in provincia di Arezzo con diramazioni all'estero e in altre regioni italiane. Nel corso dell'indagine è emerso che nel Val d'Arno era presente radicata ormai da diverso tempo un ben organizzato gruppo di dominicani dediti al traffico illecito di cocaina con compiti e strutture ben consolidate. Due i soggetti di origini dominicana al vertice della piramide residenti in Val d'Arno, un certo Richard e una certa Vicina. Oltre allo spaccio si erano lanciati anche nel riciclaggio di denaro. La droga veniva occultata ingerendo degli ovuli o addirittura nascondendola negli organi genitali femminili, poi veniva spacciata con la complicità di altri connazionali in varie città italiane ed estere. L'organizzazione poteva contare anche su una rigida divisione dei compiti tra i componenti della banda che prevedeva il mantenimento in pianta stabile in Spagna di più persone con l'esclusivo compito di mantenere rispettivamente rapporti costanti con i gruppi di narcotrafficanti e il continuo approvvigionamento all'ingrosso dello stupefacente. Molti degli acquirenti si trovavano in provincia di Arezzo. Solo una parte sono stati identificati e sono senz'altro da ritenere pienamente inseriti nell'organizzazione. È stato accertato che la loro attività si avvaleva continuamente e consapevolmente delle risorse dell'organizzazione con la coscienza di farne parte. Nel complesso sono stati individuati 27 soggetti indagati a vario titolo sia per spaccio che per traffico di stupefacenti arrestati in flagranza di reato 4 persone per reati similari.